Questa è l'ultima lezione del ciclo, delle lezioni di chirurgia maxilofacciale. Questa non ci sarà una seconda parte, questa è una chiacchierata tra medici, futuri medici e specializzanti. Chi magari non è del ramo può tranquillamente abbandonare perché sono cose un po' settoriali. Allora, nel corso delle lezioni, quando tengo una lezione, do una serie di consigli a chi magari mi avrebbero fatto piacere, perché mi fa piacere ascoltare chi magari ha un pochettino di esperienze in più rispetto a me. Cose essenziali per un medico. Cose essenziali per un medico è entrata nell'ottica che problemi medico-legale ci sono sempre. Non esiste chirurgo che non abbia una denuncia, non avrà una denuncia, non esiste medico che non abbia mai problemi medico-legale. Ormai il medico vive con l'ansia, il problema medico-legale. Lo vedete, io qui, in un piccolo video, sono andato a cercare errore medico su Google. Il resto incomincerò a scorrere e vedrete tutta una serie di annunci, ovviamente appagamenti, errore medico, incidente stradale. Lasciate aiutare, perché sono molte persone che lo fanno per difendere i poveri pazienti dal medico cattivo a chi rivolgersi, utenti consumatori. C'è un pochettino di tutto, sinceramente. C'è uno anche che mi piace molto, quando risarcimento di malasanità, no scusate, arriva tra poco. E' il solo, ecco, questo qui, malasanità, far risarcire è il solo modo per eliminarla. Questo è bellissimo, è un genio, non voglio fare pubblicità, è veramente geniale. Risarcimenti, e questa è solo la prima pagina, e poi ovviamente tra le ricerche colorate trovate avvocato per l'errore medico, errore medico chi paga, errore medico definizione, calcolo del danno. Essere un medico, poi io ne parlo sempre, ho già fatto altri video, sinceramente, e mia moglie dice, sembra che io ricevo un annunci al giorno, no, non è assolutamente così, però è una cosa che sinceramente, per come lo faccio io, il medico non è come lo faccio io, come lo fanno tantissimi altri colleghi, fare il medico vuol dire aiutare tante belle cose che sicuramente avrete già sentito, non mi va a stare qui a ricordarvele, però diciamo che è un medico, nella stragrande maggioranza dei casi può commettere degli orari senza ombra di dubbio, è un essere umano senza ombra di dubbio, quindi ha dei limiti sotto mille punti di vista, e questo non lo metto in dubbio, però ecco, la cosa che di tutto mi fa riflettere è che la stragrande maggioranza delle volte non c'è una realtà dietro le accuse che muove un avvocato, nel senso che poi, lo vedrete nella vostra esperienza, gran parte delle problematiche di mani di collegare si risolvono con un'ora di fatto per quanto riguarda la parte civile, ancora maggiore per quanto riguarda la parte penale, e qui ho un nodo alla gola, perché voi considerate che la responsabilità penale per l'atto medico, c'erano tre paesi al mondo, ovviamente l'Italia, perché noi siamo sempre avanti in tutte le nostre manifestazioni, la Polonia, il Messico, ripeto, quando uno cerca di fare il proprio lavoro, anche per aiutare gli altri, perché rimane comunque un lavoro, quindi non ve lo posso nascondere, non c'è solo quello, però uno lo fa anche per aiutare gli altri, e uno ci rimane sempre un po' male, però è la dura realtà, tanto le cose non cambieranno, non cambieranno mai, forse peggioreranno, avrete sentito durante il coronavirus parlare dello scudo per i medici, in realtà era tutta una pantomima, ma semplicemente per sollevare livelli un pochettino più alti, piuttosto che i medici che stanno in trincea, vabbè, lasciamo stare, cambiamo argomento. Parlando sempre di atto medico e di problematiche medico-legali, considerate che dovete continuamente aggiornarvi. Aggiornamento, dal 2002 avviò il programma nazionale Educazione, Continua e Medicina, ECM, cioè voi nell'arco di tre anni dovete avere 150 crediti. 150 crediti si possono avere in vari modi, si possono avere seguendo dei congressi, seguendo dei corsi, facendo dei programmi di educazione a distanza, diciamo così, e vi permettono di avere un... ogni cosa che vuoi seguire vi dà un numero di crediti. Dopo alla fine dell'anno dovete arrivare a 50 crediti, alla fine dei tre anni a 150, poi in realtà sono elastici. Personalissima opinione? Un'enorme stupiraggine. Perché vi dico, io come chirurgo maxilofacciale, se vado e mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, stavo cercando, mi mancava il triennio precedente, mi mancava qualche credito, stavo cercando i vari corsi, ho trovato che se avessi fatto un corso sulla secchezza vaginale, avrei avuto i crediti a sufficiente sufficienza per avere gli ECM per il triennio. Essendo un chirurgo maxilofacciale, la cosa mi fa un po' sorridere, però, vabbè, lasciamo stare cosa penso dei crediti. Diciamo che è importante che voi abbia dei crediti, perché? Perché la vostra assicurazione potrebbe dirvi non hai fatto i crediti per il triennio precedente, mi dispiace, io non ti copro, non sei coperto da qualunque tipo di rischio. Quindi purtroppo è una stupiraggine infinita che però è obbligatoria fare. In realtà poi il medico coscienzioso non ha bisogno di avere la regola degli ECM, in automatico si aggiorna quando c'è interesse e quando c'è passione. Poi per carità la passione te la fanno passare col passare degli anni, scusate il gioco di parole, però lo dovete fare, punto e basta. Parlando di ECM, cosa fondamentale sono le linee guida. Cioè, le linee guida sono delle raccomandazioni di comportamento. Nel senso, sono una serie di specialisti che si riuniscono, vedono tutti risultare dei vari lavori scientifici e tirano fuori come uno si dovrebbe comportare in presenza di quello. Quindi trovate Medicina in Urgenza o Torino, qualunque società ha tirato fuori le sue linee guida. Questo ha una doppia valenza. Vi indirizza durante un percorso decisionale, che sia medico, che sia chirurgico, durante la vostra attività e vi mette a riparo da un poterista medico-legale perché voi di fronte a un giudice dite, ok, io mi sono comportato in questo modo, ho fatto quest'altra cosa, perché le linee guida dicevano questo e siete sicuramente più tutelati. Anche questo, non voglio essere troppo polemico, però sinceramente anche questo, le linee guida sono cose molto belle. A volte sono scritte da dei burocrati perché poi si vanno a cozzare contro la realtà di chi lavora in un ospedale, sinceramente. Però, detto questo, non ricordatevi sempre che la linea guida è un'indicazione. Siete voi, comunque, responsabili del paziente e quindi se voi avete in mente di fare un accertamento diverso o di intraprendere un'altra strada, fatelo con cognizioni di causa, ma fatelo. Nel senso, comunque, la responsabilità rimane a voi. Qui mi riallaccio con una piccola cosa. Se lavorerete in un ospedale o magari anche i medici di base, la cosa che vi chiederanno è risparmiate. 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 Non fare fare accertamenti inutili. Sempre perché sono molto polemico questo pomeriggio che sta girando il video. Allora, gli accertamenti inutili siamo d'accordissimi. Non è giusto farlo perché non è giusto dare radiazione e far perdere tempo a un paziente. Vi dico che da un punto di vista medico-legale, perché tanto sempre lì andiamo, perché è la realtà a cui avrete adesso e Dio solo sa nei prossimi anni cosa succederà, un giudice, se voi commettete un errore ci può anche stare. Se voi omettete una cosa o non fate un accertamento, non fate diagnosi, vi si scaglierà contro. Cosa essenziale. Quindi meglio fare un accertamento di più che magari vi uscirà sicuramente negativo, ovviamente se avete il dubbio. Quindi meglio fare un accertamento di più e magari farvi fare una strigliata dal vostro primario, dal vostro direttore sanitario o da chiunque altro piuttosto che rischiare di non fare diagnosi. Perché lì poi i giudici diventano cattivi. Questo è un consiglio fuori dai denti. Detto questo, caratteristiche fondamentali che sicuramente l'avrete già sentito e ve li immaginate. Essere sicuro di sé, se voi mostrate al paziente un minimo di indecisione, lui perde fiducia e vi siete persi. Ve lo siete persi, tra virgolette, nel senso con più difficoltà vi seguirà. Allo stesso tempo l'umiltà è essenziale, nel senso mettetevi sempre in discussione perché chi va dritto per la sua strada poi a volte sbatte contro i muri. Empatia con il paziente. Il paziente non è mai nella condizione ottimale. Una persona che sta male non dà mai il meglio di sé. Mi spiace dirlo perché a volte è nel bene e a volte è nel male. Quindi non è mai la sua reazione normale. Ascoltare i pazienti ma soprattutto i familiari. Il familiare è una parte integrante. Magari non sempre durante la visita perché a volte soprattutto durante le prime visite il familiare può impedire al paziente di dire determinate cose che magari sono personali per cui lui si vergogna. Io quando chiedo a un ragazzo e ci ho accompagnato dalla mamma dal padre faccio girare il padre e mi chiedo fumi facendo i gesti e lui mi dice sì o no. Sono una sciocchezza per dirvi. È una piccola cosa che però vi fa perdere la parte iniziale dell'inquadramento e soprattutto delle problematiche reali che ci possono essere. Quando ascoltare un paziente il paziente non vuol dire ascoltarlo soltanto con le orecchie. Vuol dire guardarlo vuol dire orecchie vuol dire vista perché il paziente avrà un determinato atteggiamento quelli classici della comunicazione non verbale fondamentale un piccolo corso fatelo perché vi aiuta tanto nel capire con chi stare parlando e che reazione sta avendo. Quello è un consiglio. Io l'ho fatto e mi ha portato mi ha portato mi dà modo comunque di capire un po' meglio il paziente. Sono piccoli accorgimenti che poi invece vi danno una grossa mano. Disponibile e raggiungibile? Io sinceramente quando sono diventato molto social vengo massacrato e sono raggiungibile un po' ovunque quindi sinceramente e non è facile ve lo assicuro e lo vedrete nella vostra nella vostra vita futura. La disponibilità sì quei pazienti se lo state ancora guardando tappatevi le orecchie disponibili ma fino a un certo punto nel senso che il paziente poi se siete troppo disponibili se ne approfitta dovete sempre mettere un freno perché ve lo ritrovate telefonate alle due di notte senza motivazioni così ti volevo sentire o cose di questo tipo e l'altro consiglio che vi do a me sinceramente questa cosa è successo poi sicuramente con me quando mi confronto con un collega capire di parlare con termini un pochettino più approfonditi però io rimango un chirurgo maxilofacciale medicino l'ho fatta 20 anni fa quindi sinceramente vi dico il consiglio che vi do è parlare in maniera semplice semplice essenziale banali paragoni lasciare quando parlate con colleghi che fanno magari la vostra stessa specialità ma in realtà quando vi dovete far capire da un collega medico di un'altra specialità o semplicemente dai pazienti più sere è semplice più il paziente capisce più è sereno perché non c'è niente di peggio e vi dico a me è successo una volta è arrivato fuori il collega mi ha incominciato a tirare fuori una serie di paroloni che io che non ero sinceramente del ramo si parlava di di medicina interna mi ha accolto un po' alla sprobista e non mi è piaciuto non si è installato il minimo rapporto sinceramente era proprio una mera una mera comunicazione informazioni cliniche che poi non ti servono quando stai parlando con un paziente o con un collega di un determinato caso detto questo signori per l'ultima volta vi ricordo per quanto mi hanno fatto già delle richieste quindi probabilmente qualche altro video lo troverete mettere mi piace a dottor Fabio Filiaci sulla pagina facebook segui se trovate il segui già serito annerito cliccate continuativamente potete mostrare per primi e attivando di conseguenza anche le notifiche ovviamente c'è anche il mio canale di comunicazione in cui trovate i video e organizzate in maniera un po' differente più semplice a youtube dottor Fabio Filiaci iscrivetevi attivate la campanella ovviamente c'è instagram drfabiofiliaci quindi se volete seguirmi o mi trovate sempre bene o male una volta a settimana sui social a Grazie a tutti.